Oh ragazzi, buon dì! Oggi si parte, vado a prendere gli altri componenti, quindi ci vediamo su, sopra il primo eremo, ciao! Partiti verso l'eremo di San Bartolomeo, ecco la compagnia tra cui Andrea e Giulia! Ragazzi, siamo arrivati all'ermo di San Bartolomeo, qui non ci resta che entrare, andiamo! Grazie a tutti! Pausa pranzo, stozzetta! Grazie a tutti! Ragazzi, se non sbaglio, questi gradini che vi ho fatto vedere sono gradini tipo Scanasanto, dovevano essere fatti per ridursi dei peccati in ginocchio, cosa che non farò io, visto che sono senza peccato! Questa scala è definita anche via Crucis per la presenza di numerose croci lungo il tragitto, come questa! Ciao a tutti ragazzi, visto che ho dimenticato di fare la chiusura del video, anche perché pioveva, quindi mi è stato un po' difficile farlo! Per farmi perdonare vi farò vedere lo scatto fatto con la mia Polaroid, a voi! Intanto vi ricordo che potete commentare il video e mettere anche un bel like! Mi raccomando, iscrivetevi! Ciao!